Buongiorno. Cosa stiamo facendo qua? Stiamo ricammando le bambolini. Questo è il modello principale. Inizierò a cucire gli occhi, la bocca, poi ci sono i vestitini e questo è il lavoro finale. Quello è il lavoro finale? Sì, esatto. Come puoi vedere, poi tutta questa dimostrazione, il lavoro finale. Grazie. Niente. Tu ti chiami? Io sono Sabrina. Sabrina, grazie Sabrina. Buona giornata. Buongiorno. Cosa stai facendo tu? Io parlo in francese. Oh, tu parli in francese? Che c'è che tu fai? Buongiorno. 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 Italiano, francese, inglese, tedesco? Buongiorno. Frenchese. Qu'ai fatto? Io sto facendo la pelle. La pelle? Si, le pelle. Le rende propre, sono le pelle originali. Originali? Si. Oh. Grazie. Grazie a te. Come sei? Come sei? Io mi chiamo Lucien. Luf? Lucien. Lucien. Grazie. Grazie a voi. Mi piacciono questi discorsi medi e radi. Qui cosa state facendo? Qui facciamo la cera. La cera? Si, fatta a mano. Queste sono delle vecchie lavagnette su cui si scriveva le lezioni in classe perché prima non c'era la vera lavagna con gesso, quindi si incideva sulla cera e poi quando si era finito si riscioglieva e si doveva seccare e si ricominciava da capo. E tu sei Toscana? Si. Come ti chiami? Valentina. Grazie Valentina, buona giornata. Altrettanto. Grazie. Pericoloso. Qui cosa stiamo facendo? Con la spada. Qui pronunciamo vasi come puoi vedere, l'argilla, tutto quanto. Adesso speriamo che non si secchi con questo caldo, però nel caso un po' d'acquetta. E passa tutto. Tu come ti chiami? Sono Miriam. Miriam. Grazie. Probabilmente oggi sarò Donna Maria. Donna Maria. Grazie Donna Maria. Buon lavoro. Buona giornata. Grazie. Vediamo cosa si fa qua. Qui cosa stai facendo? Qui vendiamo le spezie, legumi, i vari profumi, la cannella, tutte cose appunto molto profumate. Poi facciamo delle polveri, vendiamo appunto le spezie e i legumi. che piacevano a Napoleone. Esatto. Esatto. Ti chiami? Io sono Silvia. Silvia. Grazie Silvia. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi altrettanto. Arrivederci. Qui allora le stoffe? Avevamo i tessuti importati dall'India, ricamati a mano, abbiamo dei pizzi preziosi, tessuti di varia natura, abiti elegantissimi. Come ti chiami? Clelia. Clelia. Grazie Clelia. Buona giornata. Qui chi dovete impiccare? Ma in teoria nessuno, il problema è che si rischia. Si rischia che vi impiccate voi. Eh sì. Aia. Avvicinarsi di me. Ok, posto. Faccio le teste, occhi alle mani. Porto la mia fisicità leggiadra. Vediamo le altre. Dai. Questo non c'ha capio. Ok. Vai. Anche tu francese? No. Italiano? Sì. Oh, bene sì. Come ti chiami? Gibi. Gibi. Tu che lavoro fai? Palegname. Palegname. San Giorgio il Drago. Compagnia San Giorgio il Drago. Esattamente. Perfetto. Quindi vi cercherò in Facebook. Grazie. Buona giornata. Grazie. A voi. Buona giornata.